passamontagna tegman duo vegetato scull con il teschio disegnato davanti è interamente in cotone elasticizzato taglia unica cuciture ultra piatte doppie si porta in due sistemi diversi o integrale come vedete nella foto qui oppure aperto in questa maniera qua se lo volete togliere del tutto lo fate scivolare l'indietro e diventa un semplice collare elasticizzato di facile utilizzo molto comodo questa parte è una pellicola a questa parte bianca del teschio è una pellicola verniciata sopra per cui rimane più spesso in questa variante qua sopra per cui rimane più spesso in questo video sopra per cui rimane più spesso in questo video